Buonasera, si può avere un bicchiere d'acqua? Buonasera, grazie, può mettere un altro trucco, gentilmente, che camere? 311, può segnare? Si, buona notte! Buonasera, un po' d'acqua? Che camere? 311, è il tuo suo fratello adesso? Si, posso? Ora lo stavo segnando, a me un altro po' mi piace, però più presto. Grazie, buonanotte. Buonanotte, segno eh! Buonasera, ti do scusi, puoi avere un altro bicchiere d'acqua? Un altro bicchiere? Hai tutto fratello anche adesso? Eh si, quello è lo stesso bicchiere, in fretta, giovane. L'ho riempito adesso? Si, si. Ti mangi la salata? Segni sulla stanza, 311, buonasera. Si, io segno eh! Così, un altro bicchiere d'acqua, mi piace, però veloce. Un'altra po' la puoi mettere. Io segno tutto eh. 311. Si, l'ho imparata a memoria. Grazie. Buonasera. Buonasera. Amico, vi chiamo io. Ciao. Di acqua. L'acqua. Un bicchiere d'acqua. Assieme siete venuti stavolta. Un altro a me, lo può darti piacere. Se non è un fastidio per me. Io segno tutto. 311 la stanza. A memoria lo so. Si. Sapete che vi dico? Siete simpatici, va? Portatevi l'acqua. L'offre l'albergo? Offre l'albergo? Quando uno mangia salato. Via. 311. No, non abbiamo mangiato salato. Ehi. No, è la stanza che sta andando a fuoco. Che stiamo cercando sempre. È mezz'ora che sta andando a fuoco. Ma ci faccio cosa, arrivi bene. La stanza che sta andando a fuoco. Un altro. C'è la sorella che è buona. Adesso mi faccio la mia fidanzata per la sorella. E vai. Dottor Fenai cosa diamo in altro? Dice che la mamma ci sta. In un colpo solo una strage di famiglia devo fare. La mia fidanzata, la mamma e la sorella. E vai. Strage di famiglia, dottore. Il resto mangia. Vai. La mamma, la figlia e la fidanzata. E va a vivere. Sì. E si sembra che devi legare i capelli a tavola. Sei c'è quando ci sono. Sì. Grazie a tutti.